Sul primo argomento anch'io ho potuto verificare lo stato di controllo sui porti perché avendo preso un aliscafo pochi giorni fa, essendo in fila, ho potuto verificare la presenza della Guardia Costiera e io ringrazio la Guardia Costiera perché le indicazioni provenienti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal Prefetto Gabrielli, sono state pienamente assicurate ed impiute con